Come posso farmi conoscere ed arrivare a tante persone? Allora, devi farti pubblicità! Ciao, sono la dottoressa Sara Trabalza, farmacista e naturopata australiana e aiuto le professioniste del naturale ad allineare la loro missione umana con quella professionale. Molto spesso mi viene rivolta questa domanda soprattutto da professioniste del nostro settore, del naturale, che desiderano arrivare a tante persone, persone desiderose di farsi aiutare. Perché spesso cos'è che accade? Se nessuno sa che esistiamo, come possiamo pretendere di sentirci poi valorizzate e riconosciute nella nostra professione? Ma soprattutto avendo l'agenda non tanto piena, quindi di settimana in settimana ci accorgiamo che la situazione non migliora. Allora ci vengono pensieri anche tosti, per così dire, sul tipo di attività che stiamo conducendo e soprattutto sul nostro futuro. Che ne sarà di noi? Sarà sostenibile nel tempo quello che stiamo facendo? Questo lavoro, questa professione mi darà davvero quello che io ho sempre desiderato ottenere? Cioè realizzare il mio sogno da professionista del naturale, mettermi a servizio degli altri, aiutarli a stare bene e condividere con le persone tutte le tecniche e strategie che ho imparato negli anni, con tanti corsi di formazione, tanta energia e soldi investiti in corsi, in tutto quello che è diciamo la terapia, la conoscenza di noi stesse, percorsi di meditazione, di conoscenza crescita personale. Allora tutto ciò va tradotto in un'unica parola che non ci piace, lo so, nel nostro settore non è una parola che piace molto, farsi pubblicità, ma cosa vuol dire? Però adesso io ti svelo cosa c'è dietro tutto questo e perché è importante che tu ti faccia conoscere, quindi è importante che tu promuova la tua attività professionale, che le persone sappiano ciò che fai, soprattutto sappiano che esisti, altrimenti non sarai di aiuto efficace per nessuno. Allora è importante farsi pubblicità, farsi pubblicità, farsi conoscere è molto bello, soprattutto perché determina coraggio nei confronti di te stessa, perché tu ci metti la faccia in primis, proprio per dirla così com'è e quindi possono nascere, insorgere delle paure, delle resistenze al riguardo, è normale, soprattutto può nascere vergogna, paura del giudizio degli altri, cosa ne penserà la gente se io mi espongo, se mi faccio notare, se mi faccio vedere, sono tutte paure e incertezze umane, è normale, perché chiaramente viviamo anche in un mondo dove l'apparenza, quello che dicono gli altri, conta e siamo state abituate così, però devi sempre tenere a mente due cose fondamentali, la prima è che tu stai dando onore e valore a ciò che fai, alla tua professione ed è giusto, è sano farsi pubblicità affinché le persone sappiano che tu esisti e la seconda è che il giudizio degli altri non conta, alla fine quello che conta sono i risultati che ottieni e soprattutto il sogno da professionista del naturale che stai realizzando, allora già partendo da queste due premesse diciamo la strada si fa più semplice, ok? Poi c'è il passo della realizzazione e quindi della messa in pratica di tutto quello che abbiamo appena detto, allora lì dovrai strutturare il tuo lavoro in un certo modo e dovrai sicuramente andare a compiere delle azioni che ti portano a ottenere appunto a realizzare questo sogno e soprattutto ad arrivare a quelle persone affini alla tua anima che ti permettano di davvero farti conoscere, lavorare nelle tue condizioni ideali, sentirti a tuo agio nella tua professione, sentirti valorizzata e riconosciuta per tutto quello che stai offrendo al mondo e non c'è dono più grande, non c'è gioia più grande, poter davvero sentirti bene in quello che fai e poter fare questo lavoro, svolgerlo per tanti anni a venire perché conosci bene la tua attività professionale, ti sei ben strutturata, ti senti stabile, ti senti sicura di te, di ciò che fai e vai avanti così per la tua strada. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto clicca il link qui sotto per prenotare la tua destiny call per il programma Petals Elite dove ti insegniamo a strutturare la tua attività professionale e andare al prossimo livello.